Alessandro Farina Signori, signori, non c'è bisogno di andare in televisione Venite voi da noi, sabato dinner dance Niente poco di meno che è direttamente da Colorado Alessandro Farina Ciao a tutti Eccolo lì ragazzo Oggi ti vedo un po' lucido Di solito non lo sei Di momento sì, siamo a inizio serata Quindi fatemi un'intervista a fine serata che vediamo com'è Ma come mai questa sera se sei lucido? Vuoi fare il bravo fino a fine? Ogni tanto ci vuole dai Dimmi la verità Alessandro, da dove arrivi tu? Io arrivo da Rimini Da Rimini con tutta la compagnia? Sì Cosa festeggiate di bello? C'è una di classe, classe 84 La classe 84, 29 anni barra 30 adesso arrivano a fare Beh che bello I ragazzi di Rimini, un amico di Alessandro Farina Di Montisola Sono un ragazzo di Montisola Un intruso Salutiamo Alessandro Farina, la classe di Rimini Nel 1984 Con la piedina da Rimini ai grandi Salutiamo lo squaccherone 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 Fantastico Stasera c'abbiamo Romagna in fiore Tu sei la vita Tu sei l'amore Quando ritorno a casolare Romagna mia Romagna in fiore Ah fantastico Ciao 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 Tutti Garandai utomati Volai cerutare Eeeh 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 Grazie a tutti.